Buongiorno, benvenuti. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Family Casa, mercoledì 15 novembre, è arrivato il freddo, abbiamo visto ieri bellissimi panorami delle nostre montagne innevate e noi invece andiamo in direzione completamente opposta perché parleremo della manutenzione delle case al mare. In realtà sembra la stagione giusta perché adesso sono ben pochi quelli che trascorrono qualche giornata, qualche settimana al mare e soprattutto alle nostre latitudini. Quindi ci sembra la stagione ideale per i lavori di manutenzione negli appartamenti e nelle case sulle nostre coste. Vi ricordo naturalmente che se avete domande o suggerimenti o interventi potete telefonarci allo 0432 573517 oppure potete mandare un sms o un messaggino whatsapp al 345 99 56897. Allora appunto parliamo di manutenzione di case e lo facciamo con una imprenditrice edile, con la signora Loredana Versolatto che è titolare dell'omonima azienda che ha sede a Pocenia. Allora buongiorno signora, le chiediamo subito se è vero che questa è una stagione buona per fare i lavori nelle case al mare. Sicuramente sì perché in questo momento gli appartamenti e le case sono libere e non abbiamo dei vincoli per quel che riguarda rumori o altri problemi con l'ufficio tecnico del comune che può essere lignano, grado eccetera. Quindi i lavori possono essere fatti tranquillamente rispettando tutte quelle che sono le necessità che possono emergere dall'intervento. Quindi dalle demolizioni alle ristrutturazioni, alle interventi per un isolamento termico, acustico o per anche delle piccole manutenzioni che possono essere ordinarie sia all'interno che all'esterno dei vari fabbricati. Quindi sicuramente sì, questo è il periodo più ottimale per questi lavori. Ecco, qualche tempo fa era emerso un sondaggio che le nostre case al mare, quelle del Friuli Venezia Giulia, soprattutto della costa friulana, erano viste un po' in maniera negativa dai turisti stranieri perché gli edifici erano un po' magari vecchi, un po' trasandati eccetera. Anche nella sua esperienza è così, cioè ci sarebbe bisogno di interventi un po' più continui, ecco, con una certa continuità. E poi quali sono invece gli interventi più richiesti proprio nelle nostre spiagge? Allora, sicuramente il patrimonio edilizio, faccio riferimento a Lignano, ci sono parecchi fabbricati di una certa età che avrebbero bisogno di essere rinnovati, se non altro. Poi sicuramente essendo un'edilizia realizzata anni or sono, adesso richiederebbe anche una certa migliore prestazione energetica. Quindi un adeguamento dal punto di vista della prestazione. Oltre che l'adeguamento dei vari impianti perché, come dicevamo, i fabbricati vecchi naturalmente necessitano anche di tutta questa serie di interventi per gli adeguamenti e per rendere sicuramente gli appartamenti più appetibili, diciamo, per i turisti e quindi anche più performanti e sicuramente anche più confortevoli. Certo, insomma, quindi più belli e più appunto confortevoli, come ha detto lei, perché anche il discorso dell'adeguamento energetico noi lo riferiamo solitamente al riscaldamento, ma non è vero, vale anche per il rinfrescamento, quindi anche l'impianto di aria condizionata, sì, possiamo farlo andare a manetta, come si dice, però se l'edificio disperde non avremo mai il massimo del fresco che potremmo avere, giusto? Infatti un problema che viene portato alla luce in questi periodi è quello delle case energivore, ma per quel che riguarda il raffrescamento, per cui c'è un notevole consumo di energia per raggiungere un comfort interno proprio anche in questi fabbricati, perché essendo utilizzati durante appunto la stagione più calda necessitano di questi accorgimenti che sicuramente intervenendo sul involucro esterno del fabbricato sarebbero limitati. Ecco, le condizioni climatiche del mare, chiaramente in termini soprattutto di umidità e poi della temibile salsedine, sono particolari perché comunque anche c'è spesso brezza e quindi ci sono, per quanto riguarda il sistema cappotto, che lei ha citato poco fa, insomma come protezione dell'edificio, ci sono dei materiali specifici come appunto cappotti o come intonaci o vernici proprio per proteggere e per far durare di più l'intervento? Diciamo che l'utilizzo di materiali naturali è sicuramente il migliore in tutte le situazioni. Essendo in presenza di ambiente salino sicuramente ci sono dei prodotti che vanno utilizzati maggiormente. Però diciamo che in linea di massima poi è chi progetta o l'intervento che suggerisce anche i materiali da utilizzare che noi come impresa costruttrice naturalmente rispetteremo nell'esecuzione del lavoro. Quindi è il tecnico progettista che dà le indicazioni, spesso in accordo appunto con chi fa la valutazione energetica e anche della situazione perché appunto il cappotto, l'isolamento di un edificio è un po' un sistema che riguarda anche gli infissi e anche lì bisognerebbe aprire un capitolo grande perché proprio questo anche per le case al mare che magari hanno belle vetrate eccetera possono essere un punto di difficoltà. Sì certo perché anche nel campo dei serramenti sono stati fatti notevoli progressi per cui installare o sostituire un serramento con notevoli prestazioni energetiche oltre a essere molto più bello normalmente ha anche delle caratteristiche isolanti intrinseche e che sono notevoli. Poi adesso tra l'altro c'è anche sui materiali per esempio il PVC che era stato, era un po' come posso dire demonizzato dal punto di vista della resa energetica invece adesso hanno anche i serramenti in PVC un'efficienza da questo punto di vista grazie a qualche accorgimento eccetera e quindi quello lì recupera anche la resistenza verso gli agenti esterni magari una resistenza maggiore rispetto a quello che può essere il legno che è comunque più bello che ha le sue caratteristiche insomma poi un po' la scelta è... Esatto il discorso magari più PVC in questo ambiente richiede meno manutenzione che non fa male insomma. Anche perché non è una casa che viviamo quotidianamente quindi per molti mesi la lasciamo più o meno chiusa e quindi la manutenzione si fa un po' più difficile. Un altro tema che si affronta spesso appunto col discorso case al mare è quello un po' dell'umidità è un nemico sempre in agguato vero? Esatto anche lì gli interventi sono un pochino più impegnativi nel senso che bisogna naturalmente togliere l'intonaco esistente, verificare la salubrità e la consistenza della moratura sottostante dopodiché intervenire in varie fasi con dei prodotti diversi che riescano appunto a deumidificare la muratura e poi lasciano la possibilità di rimettere un'intonaco molto più traspirante che mantenga la muratura sempre in buono stato insomma. Quindi eviti un po' il ristagno insomma dell'umidità. Esatto, il ristagno e anzi la possibilità di portare verso l'esterno l'umidità che risale dalla muratura esistente. Ecco quindi bisogna pensare a un intervento di appunto di abbattimento delle pareti e di risarnamento non per forza questo, esistono anche dei prodotti che aiutano un po' a risolvere questo problema e sono applicabili sempre oppure insomma ci sono dei casi... Sono applicabili sempre, sì naturalmente bisogna un momentino fare il quadro della situazione nel senso che magari oltre alla muratura devo vedere quello che c'è all'esterno se c'è per esempio un marciapiede che convoglia l'acqua verso la muratura magari dovrò fare un lavoro di cambio dipendenza, dovrò al limite anche fare un'impermeabilizzazione su questo marciapiede o questa muratura attigua che mi conduce acqua per mantenerla il più lontano possibile dalla muratura. Certo e quindi insomma possono essere più interventi coordinati anche qui Sì sicuramente Però insomma si valuta problema per problema mi pare di aver capito Sicuramente sì Ok va bene noi adesso ci prendiamo una piccola pausa poi vi daremo dei consigli su come mantenere al meglio la vostra casa al mare anche in questi anni quando ci sono, quando si verificano delle situazioni, degli eventi climatici cosiddetti estremi Restate con noi ci prendiamo appunto una piccola pausa Bentornati a Family Casa Oggi dovremmo chiamarlo Family Casa al mare perché proprio di questo stiamo parlando della manutenzione degli appartamenti appunto e delle case che ci ospitano nella bella stagione Vi ricordo come sempre che potete chiamare in diretta se volete allo 0432 573517 Oppure mandare un sms o un whatsapp al 345 99 56897 Noi siamo in compagnia di Loredana Versolatto che è un'imprenditrice edile e stiamo appunto spiegando un po' quali sono gli interventi più diffusi Abbiamo parlato dell'umidità, abbiamo parlato dell'isolamento termico della casa o dell'appartamento e andremo adesso a capire anche un po' come funzionano le cose quando rischiamo di trovarci di fronte agli eventi climatici estremi Ma prima di questo le volevo chiedere La tipologia più diffusa di Casa al mare è l'appartamento Tutti i condomini possono essere anche molto grandi quindi con molte unità abitative In quel caso come si svolgono gli interventi? Di solito c'è l'amministratore che cerca di mediare tra 60 famiglie oppure voi intervenite anche in caso singolo se l'appartamento proprietario ve lo chiede? Sì, sicuramente siamo disponibili a interventi anche sul singolo appartamento In questo momento immagino per esempio degli appartamenti che possono essere riadattati anche alle nuove esigenze della famiglia o a un'ottica diversa anche di vivere l'appartamento al mare perché ci sono tantissimi appartamenti con delle terrazze che alla fine non vengono sfruttate tanto quindi anche l'immaginare di riattivare per le nostre idee delle terrazze esistenti o per approfittare di fare un pranzo sul terrazzo fuori può essere un'idea Questo per esempio è una casa che abbiamo acquistato e che fra un po' demoliremo completamente per realizzare un condominio quindi anche qui appartamenti A questo progetto? Questo è il progetto del nostro futuro condominio Ci sono degli appartamenti con diverse metrature e c'è anche, ci sono i due al piano superiore con un solarium Gli attici Esatto Ecco qua possiamo vedere dall'alto Però comunque ecco anche in un progetto completamente nuovo si prevede di rispondere a delle esigenze che possono essere degli spazi aperti come terrazze facilmente gestibili perché appunto si puliscono anche senza troppa difficoltà permettono di utilizzare, di stare all'aria aperta proprio perché siamo al mare perché c'è l'estate Ecco io richiamo indietro un attimo la piantina Questi sono invece gli spazi interni Esatto Questo è grandissimo questo appartamento È un progetto di un appartamento che avremo lì perché anche lì costruiremo con varie tipologie di appartamenti e quindi ci saranno varie possibilità sempre tutti con terrazze molto ampie perché crediamo che vista l'ambiente sia opportuno anche vivere all'esterno Certo assolutamente Poi soprattutto se si ha qualche piano alto si evita anche il problema della zanzara o quant'altro I materiali appunto che usate anche per i rivestimenti delle terrazze eccetera sono particolarmente studiati per il mare oppure ormai è tutto molto di qualità per cui si può andare tranquilli È tutto molto di qualità ma va eseguito anche con molta qualità perché una cosa importante per qualsiasi tipo di lavoro è la cura del particolare perché il problema nell'edilizia non si vede subito ma le infiltrazioni di acqua, di umidità eccetera compaiono pian piano quindi tutti questi piccoli accorgimenti che vanno fatti all'inizio sono fondamentali per la riuscita di un buon fabbricato per cui la nostra impresa appunto ha sempre fondato il suo modo di lavorare seguendo questo criterio dovrebbe essere di tutti perché insomma giustamente lei dice risponde per lei e per la sua impresa però giustamente dovrebbe essere un po' un modo di lavorare che magari rischiamo di perdere per risparmiare la casa è fondamentale e quindi va rispettata e va curata come tale fin dall'inizio ha ragione a proposito invece di risparmio quantomeno fino al 31 dicembre sono ancora validi i cosiddetti bonus bonus per l'edilizia per le ristrutturazioni e manutenzioni in particolare che cosa potrebbe riguardare un appartamento, un'abitazione al mare? Allora per quel che riguarda il mare prendiamola come col domini anche molti appartamenti ci sono delle detrazioni fantastiche per quel che riguarda gli interventi in particolare per quelli per il sismico cioè per il rischio sismico che possono portare a delle detrazioni veramente importanti se fatte su delle parti comuni dei condomini ma questo anche per il risparmio energetico quindi in questo momento sarebbero veramente da sfruttare per poter svecchiare i vari condomini e portare un beneficio a livello statico e a livello anche energetico energetico naturalmente chiaramente appunto il tempo un po' stringe però insomma la signora Versolato ci ha detto che è la stagione giusta e l'intervento poi insomma si può basta iniziarlo prima del 31-12 poi naturalmente ci saranno i tempi i tempi necessari avevamo accennato prima a questo discorso ultimamente negli ultimi anni stiamo sempre più assistendo ai cosiddetti eventi climatici straordinari come poteva essere questa è stata quest'estate la famosa tempesta del 10 di agosto comunque insomma allagamenti esondazioni anche di corsi d'acqua di rogge cadute di alberi sono sempre più più frequenti naturalmente non li possiamo prevedere in toto però possiamo fare qualcosa perché il danno sia contenuto per esempio che cosa possiamo proprio mettere in atto di pratico sicuramente un controllo delle reti fognarie delle reti di scarico delle abitazioni o condomini eccetera questo è fondamentale in modo che siano sempre libere e eventualmente riuscire ad agire in modo preventivo quindi se si vede che quando piove il cortile o il giardino si allagano è meglio prevedere subito una tubazione integrativa o sostitutiva questo senz'altro è fondamentale per non incorrere in guai prevedere se possibile anche delle pompe che aiutino magari ad asciugare questi spazi e prevedere anche una pulizia delle grondaie perché anche quelle naturalmente quando non riescono a scolare l'acqua ce la troviamo e poi appunto ci sono danni molto più molto più estesi quindi particolare attenzione a queste cose che sicuramente aiutano ad evitare problemi maggiori beh certo insomma poi la pulizia delle grondaie è proprio manutenzione ordinare al massimo andrebbe fatta una volta all'anno ecco e il discorso invece del diciamo del diametro delle tubazioni delle fognature forse basta una volta ogni tanto una cosa che che mi domando questi interventi sulle case al mare abbiamo sempre parlato adesso fino adesso parlato di di interventi abbastanza definitivi ma che tempo di e mi vita hanno inteso in questo senso se io lo faccio adesso devo prevedere che lo devo di doverlo rifare non so in capo a 10 15 20 anni oppure se lo mantengo bene non ci devo pensare più eh no i lavori vanno fatti bene perché devono durare per parecchio tempo e quindi diciamo ci penserà fra 20 anni eventualmente ok non è come al supermercato al discount dove compro la cosa che costa meno che so che tanto si rompe in breve e poi la sostituisco se anche per l'edilizia appunto a quello che costa meno come qualsiasi cosa è una conseguenza diciamo il poco non può darti tanto posso mettere proprio una toppa minima però diceva giustamente ci sono i bonus adesso insomma l'opzione può non essere tra risparmio e qualità insomma ma solo ma posso avere tutte e due sì sì certo anche perché poi questi interventi portano a notevoli detrazioni che se per caso uno non ha neanche la capienza di poterle utilizzare le può cedere quindi questa è un'altra opzione che hanno dato con le nuove manovre che mi sembra parecchio interessante può essere ceduta addirittura anche all'impresa che realizza l'intervento addirittura sì quindi insomma non si butta via risparmio mi verrebbe da dire no 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 anzi lo Stato vedo che sta spronando molto su questo fattore perché come al solito ci accorgiamo dei problemi o delle difficoltà quando purtroppo capita come la tromba d'aria del mese di agosto no l'unica cosa che appunto mi viene da dire è che purtroppo ogni anno si aspetta la proroga o le modifiche o l'approvazione delle nuove norme quando in realtà questi qui sono anche lavori consistenti dal punto di vista economico forse avere un po' più di margine per decidere porterebbe a beneficio più a tutti e più a lungo termine forse perché insomma io posso prevedere l'intervento entro magari due o tre anni che devo decidere nei dodici mesi successivi comunque questo è un discorso un po' che che esula io signora Versolatto la ringrazio per essere stata con noi ringrazio anche voi telespettatori vi ricordo che poco dopo insomma incomincia il telegiornale delle 13 con le notizie e che stasera c'è anche elettroshock la trasmissione di approfondimento di Telefriuli domani invece per quanto riguarda Femmili avrete a che fare con la parte dedicata al benessere buona giornata a tutti di Telefriuli di Telefriuli Grazie a tutti.